Oggi è sabato primo marzo, volevo andare in bici ma siccome piove allora ho fatto 50 minuti di ciclette mentre mi guardavo superman e batman nemici pubblici numero uno, poi sulla pante richienata ho fatto 100 colpi di abdominali, ora che il film è finito mi faccio ancora tre minuti di ciclette, qua è finito tutto il digiuno e ora tra un po' colazione. Grazie a tutti 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 un litro d'acqua è già partito no mezzo più quell'altra lì col glicerolo finalmente vedevo l'ora come ti senti ora che hai bevuto? molto meglio ho cambiato i veri campioni bevono solo coca zero prima della gara solo un goccino fai bravo taglia uno va bene taglia uno anzi taglia due qua sul modulo sai cosa c'era scritto obiettivi nella vita? cosa c'era scritto? la pace del mondo grande è tipo Miss Italia la pace del mondo la pace del mondo io ho scritto meglio di così io ho meno profondo cosa hai scritto? questo bachetto scrive stare bene in forma scusate scusate io torno qua domani a mangiare a mangiare un bel caffè sono dei due mitico si cosa hai messo come obiettivi per la gara? stare bene e in forma stare bene e in forma ottimo suggerimento si eh e se dovessi vincere arrivare nei primi secoli cosa diresti? aduken ah oppure se voglio fare il figo kaioken stavo pensandoci anch'io penso che è meglio kaioken e poi dico e poi dico ah si alla paella FreakCab ci si allena a gravità 100 e tu David cosa pensi dei tuoi allievi? un'app e un'app e un'app e un'app beh penso che sono un gruppo di coglioni come? sono un gruppo di coglioni sono un gruppo di coglioni sono un gruppo di caglioni a prescindere caglioni però un po' crederemo l'importante l'importante no no non è partecipare l'importante è piazzarsi tra i primi sei perché comunque dobbiamo raggiungere l'obiettivo l'abbiamo raggiunto al 50% quindi l'abbiamo a mettere da 35 anni abbiamo trovato la strada abbiamo trovato la strada cazzo non ci siamo mai persi ecco e già ci sono un quadro di 10 km siamo un quadro di 10 km sono un piccolo per il gioco è facile è facile è facile e se fa facile senza rasse ci vediamo ecco ecco grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.